Possiamo proseguire? Andiamo avanti Qua, il pericolo Ah Come interagisco con Ah, col mago La bolla d'acqua Cos'è questo? Haha, spara plasma Stivani è in arrivo Yeah Cristo, quanti sono? Cambiamo arma Non si può cambiare arma Arriva il versione Non è un altro Scarico, cazzo E la madonna Alla madonna Che casino Ricopriamo un po' di energie Ho sparato l'anima Vediamo se c'è un passaggio segreto Lì, non c'è Questo è un altro di quelli Non ho capito però dove visualizzare Le nano Le unità monetarie Dove sono le monete? Se vado qua Quindi c'è che Ah, combat shotgun Praticamente ne ho Per spendere Ah, deve essere quel numerino lì Deve essere quel numerino In basso a sinistra Sì Ne ho uno Vediamo di mettere lo shotgun Al muraina Ok Ah sì, è quello È quello Però guarda che strano E se no andiamo Ah, nei controlli Vediamo Eh, dovrebbe essere la rotellina Ma la rotellina non cambia l'arma Beh, questo è un mistero Un mistero La rotellina non cambia l'arma Rimango col plasma Forse devo trovarla da qualche parte Però l'ho potenziata Andiamo a dove andare Di qua Un altro di queste Storiacce Ok Hola Vediamo Ah, ecco Ci vuole Uno sprint Una sprintata Attenzione allo sprint Ok Sereno Vieni Queste robe elettriche Sono ovunque Ma non sono messe via a caso Ne Fanno anche gli agguati Aspettando tutto Di qua si passa Di qua Non si passa Ah, ecco Obiettivo completo Yeah Yeah